Siamo qua ancora una volta a commentare un errore di Ruantresoldi, un giocatore che ha anche delle potenzialità, che sicuramente ha fisico e ha anche capacità di stare in campo, ma praticamente ogni partita combina un pasticcio, un'espulsione, un autogol, un errore, un rinvio, un fallaccio o un liscio o un semiliscio come quello che oggi manda in porta pulisi sulla bella intenzione di Ben Nasser. Difficile trovare la logica nei tanti errori di questo ragazzo che però continua a farli e continua a stare in campo. 5 per Ruantresoldi.